ha lasciato la mia famiglia mio figlio il cane e la mia mamma e gli amici certo ecco no fortunatamente la mia mamma qua viene 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 in italia i miei figli vivono in canada la mia figlia che veniva da un paese lontano è qui adesso con noi ecco vetrana secondo te finire presso la guerra non lo so questo perché non sono una politica non lo so perché questo come come gioca per lì per le gente non non è per popolo per le per i politici forse non lo so speriamo solo speriamo è pago per il pace si lo voglio e ha la chiedo se intende prendere il marito il qui presente è ratti antonio si lo voglio e avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sotto indicati ho dichiarato che i medessi sono uniti in matrimonio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.